60 secondi or less questo è il titolo dell'appuntamento di oggi per cui già dobbiamo durare 60 secondi o meno per cui abbiamo poco tempo per trattare il tema devo dire oggi ciao Nicolò ciao a tutti ciao Stefano, ciao Matteo ciao Nicolò il titolo è un po' una provocazione mia quindi vi perdonerete però Nicolò è founder e creative director di una realtà Ripresi Friends che è ovviamente orientata alla realizzazione di video per il business e con Nicolò spesso insomma essendo amici abbiamo fatto ragionamenti su come si è cambiato soprattutto il suo lavoro devo dire e come il fenomeno ovviamente il dover utilizzare i video per i social se una volta era un add-on poi ci confermerà oggi diciamo che è parte integrante della stesura di progetto anzi in molti casi è il core del brief che arriva a Nicolò e questo il fatto comunque dell'orientamento dei video ai social sta portando molti cambiamenti il primo appunto che riprendiamo dal titolo è il fatto dei video che diventano sempre più short diciamo andando un po' allargando un po' i 15 secondi storici che poi sono diventati 30 che poi sono allargati comunque andando sotto il minuto che è un po' il concetto dei video social dei reel dei diciamo dei tiktok anche se anche i video tiktok adesso hanno aumentato la durata stanno aumentando la durata delle stories che diventeranno un minuto dei frame quindi diciamo che stanno cercando di far diventare questi short un pochettino meno short però il concetto è che si va verso una frizione molto più compatta che non vuol dire ridurre tra virgolette io partirei proprio da qua Nicolò come è cambiato un po' l'approccio di chi fa video professionali e di chi è abituato a fare contenuti professionali calcolando che è sempre l'anno dei video ma alla luce soprattutto del cambiamento di questi ultimi due anni ne hai vissuti tanto però per esempio a quello del verticale in parte siamo sopravvissuti anche se poi è tornato però per esempio sul fatto del timing e di certi canoni stilistici è cambiato molto l'approccio delle aziende al video è cambiato tanto e effettivamente sì e viva festeggiamo tutti e tre è il decimo anno dell'anno dei video e questo ovviamente a me e a tutti quelli che faranno video ci fa contentissimi però sì è cambiato secondo me l'approccio perché ci troviamo davvero secondo me in un anno in due anni di mezzo in cui veramente le produzioni cominciano a fare uno switch di pensiero e quindi si comincia a approcciarsi al mondo degli short e dei verticali in un modo diverso se negli ultimi anni fondamentalmente tutti i nostri video commercial o hero poi ci veniva chiesto di tagliuzzarli in formati da 60 in verticale in 15 in buzz per youtube in 6 secondi però erano sempre tagli di noi diciamo sempre clienti del maiale non si butta nulla e è vero nel senso nell'e-shooting funziona in questo modo si cerca di massimizzare la giornata di produzione per poi avere molti più output però si tende si è sempre pensato che in realtà poi questi output fossero comunque sì si fa il video hero si fa il commercial e poi con il tempo rimanente si fanno anche degli short o comunque si taglia il video in un modo diverso si sta cambiando mindset perché in realtà si sta vedendo che sempre di più gli utenti poi va a premiare un certo tipo di formato che sono i reel che sono le stories che sono gli short di youtube però vanno a premiare come engagement quel tipo di formato e quindi si sta spostando l'interesse dei nostri clienti anche sul fatto che una campagna può essere pensata per essere veramente fruita principalmente in quel canale e ce ne sono tanti di esempi quest'anno mi viene in mente è levissima con Fabio Volo di cui abbiamo già parlato con Matteo che effettivamente è una campagna pensata da We Are Social e poi prodotta da Intiana Production proprio per essere fruita in verticale e proprio nella sua verticalità trova una direzione fotografica una sua godibilità perché è pensata per quel fermato e quindi è realizzata per essere massimamente e visivamente impattante in quel formato cosa molto diversa rispetto agli anni scorsi per cui non si pensavano campagne di questo tipo per essere verticali ovvio che rimane l'interesse di tutti e la portanza del valore narrativo di un video hero nel classico 16 noni nel classico formato da 60 a 120 o 150 secondi ma non è tanto secondo me lo short non è tanto il timing non solo è proprio il fatto che l'utente soprattutto uno Z si sta sempre più abituando a non guardarsi il video hero di due minuti in cui il brand racconta tutto il proprio valore tutta la sua purpose tutta la sua mission nei prossimi anni ma in realtà ha un valore più di intrattenimento un video più di intrattenimento da mangiucchiare velocemente e purtroppo da risputare subito questa è una tendenza che vediamo in tutti i nuovi i nuovi social e vediamo anche che questo porta i nuovi i nuovi soggetti che operano all'interno di questo campo a strutturare a strutturarsi in modo per cui gli utenti facciano sempre di più video di quel tipo mi ha fatto impressione Pinterest qualche giorno fa si è comprata Voci che è una app di editing di video e di foto proprio io la uso proprio perché vuole stimolare sempre di più i propri utenti a raccontarsi e a produrre video di un certo tipo cosa ci raccontiamo tutti quanti ci raccontiamo tutti quanti che questi video sono sempre più creativi ed è vero cioè se ci pensate negli ultimi decenni anche partendo dalle YouTube però sempre di più si sta avendo creator talent e qui è Matte che lo può dire sempre più creativi anche dal punto di vista tecnico della creazione del video e quindi ci sta ci si sta sempre più abituando anche come utenti a vedere reel a vedere stories a vedere short che non sono buttati lì che non sono chip che non sono così naif in realtà ci si sta alzando tutto il livello si sta alzando da tutte le parti ovviamente le agenzie i brand e chi poi si deve mettere a contendere in questa grande battaglia deve tenere conto del fatto che per primo il brand non può presentarsi in questo agone senza un livello qualitativo alto una cosa che mi ha sempre colpito Niccolò però di questo cambio perché forse lo subisco anch'io è che rispetto alla produzione passiamo il termine perché poi sembra che parliamo di 120 anni fa classica però quando ragionavamo e tuttora ragioniamo come nel concetto magari di video hero i trend erano rilevanti però era veramente molto più il brand della forza creativa del diretto scusate la ripetizione ma del creativo che c'era dietro il video quasi che imponeva l'originalità lo stile oggi viceversa soprattutto su questi contenuti short il capire la piattaforma soprattutto seguirne i trend diventa praticamente vitale perché lo stesso video stesso soggetto stesso topic stessa qualità fatto adesso tra sei mesi o tra un anno le prestazioni di quel video cambiano in maniera enorme cioè praticamente enorme perché perché magari in un momento sei parte di un trend o di una challenge parliamo di tiktok diciamo di una challenge fatta dagli utenti direttamente venuta su da naturalmente in maniera virale dagli utenti tra un anno non lo sei più quindi con lo stesso video se sculetti con la canzone stai cinque mesi fa facevi delle visualizzazioni se lo fai fra due mesi è un'altra cosa come 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 riuscire a integrare come riuscite a integrare alla parte di creatività e di capacità produttiva di chi come te fa video e sono case di produzione di alto livello è città indiana comunque dovendo integrare anche questa parte che è decisiva per certi versi secondo me i filoni sono due cioè te parlavi infatti di prestazioni secondo me quello è il concetto giusto cioè se si parla di prestazione se si parla di numeri poi da mettere sul piatto è ovvio che seguire trend e quindi non soltanto come una cdp poteva fare un tempo essere il braccio che produce e basta ma avere anche un occhio noi abbiamo stiamo costruendo questa unit dedicata lo sai bene a questa parte ma proprio perché in realtà sempre di più dovrà esserci una commissione fra il creativo digitale alla pogliani che conosce perfettamente i trend e conosce perfettamente i creator che vanno in quel momento è una cdp che però ha una ton of voice ha proprio un proprio braccio che si adatta al reel che si adatta a fare cose di questo tipo perché se no la cdp classica che invece lo fa da cdp e produce nel suo modo poi non si riesce a connettere con quelli che sono i trend del momento proprio per una questione tempistica perché gli arriva l'agenzia che dice guarda che il trend però è ora cioè io lo voglio fra dieci giorni e forse guarda dieci giorni mi stai anche perdendo tempo dai e quindi questo è proprio un cambio di prospettiva dal punto di vista delle prestazioni rimane però il filone che era quello che ti dicevi e che secondo me non è morto assolutamente del direttore creativo che però a livello di brand impone un trend e non lo segue con una sua scelta forte di fare un hero che parli di una certa cosa in un certo modo e qui siamo in un altro campo da gioco siamo nel campo da gioco del brand che dice no io sono questo voglio comunicare in questo modo e provo a imporre il mio modo di comunicare l'altro secondo me è l'irrinunciabile battaglia che dobbiamo fare sui social e che se non cominciamo a seguire i trend e a capire come si fanno quelle tipologie di format per tutto questo nuovo gusto che tutti noi abbiamo noi si parla sempre di Z ma non è che nel senso noi tre non stiamo sui social o non ci guardiamo o non ci passiamo il tempo a guardarci real e tutti noi stiamo abituando il nostro cervello i nostri occhi a guardare un tipo di format e a guardarlo sempre di più perché poi più aumenterà questo tipo di format e questo tipo di approccio anche dei brand e più ci ritroveremo da tutte le parti e quindi per forza di cose anche l'agenzia anche la CDP deve pensare al futuro in questo modo qua non tralasciando la parte più romantica e più bella a livello di branding del video video del video commercial che se parli a me è ovvio che mi emoziona e penso no cavolo il brand deve continuare a fare la sua campagna in cui si impone alla sua idea creativa e chi se ne frega del trend dall'altra però scendendo dal romanticismo come fai a non attaccarti ad alcuni trend che vedi l'algoritmo premia e quindi poi al cliente al brand a chiunque gli puoi dire guarda te vuoi veramente pasturare vuoi fare numeri vuoi avere una rilevanza in questi social qua e dobbiamo starci dietro faccio un'altra domanda che secondo me è un po' collegata sempre più l'attività dei video soprattutto quando parliamo di trend e l'attività di contenuti in generale diciamo è dominata dall'azione dei creator creator che non vengono non ho detto infatti influencer quindi diciamo mettiamo un attimo in parte il concetto di Arnold Media cioè collaboro per sfruttare che parola brutta ma veritiera la loro fan base la loro audience ma usare queste figure proprio per la loro capacità di essere creativi noi li facciamo e lo sai quindi io ne curo quindi tutta la parte di brand e content dove passano i creativi e diciamo i creator ma come dov'è il punto di congiunzione e corollario avete hai mai pensato per esempio di integrare nel team come stanno facendo qualche casa di produzione dei creator nativi cioè lo youtuber o il tiktoker di turno per per o se un utente sarebbe complesso cioè io vedo molto questi due mondi complessi come ben sai noi facciamo cioè i due filoni sono o i progetti che brand affidano totalmente ai creator ci sono creator che sono in grado mi viene in mente ma loro fanno dei video molto belli e fanno tutto loro ci sono invece casi in cui magari prendi il creator e poi il video lo lavori con una casa di produzione per alzare ovviamente il livello ma in quest'ottica ha senso se non te che una casa di produzione in futuro integri in maniera più diretta un creator in modo da averlo in casa perché comunque vuol dire averlo sempre lì confrontarsi quindi diciamo che prendere esternamente a certi tipi di costi non è che è così interno ha senso o è un qualcosa che ancora non è così è un po' prematuro vien da dire no non è assolutamente prematuro cioè sarebbe una figata noi ci stiamo provando è cambiato anche l'airing cioè l'idea secondo me è proprio che c'è una generazione di youtuber e di come li chiamiamo adesso quelli che faranno soltanto reel e di reeler che in realtà sono a giovani ma giovani anche proprio paragraficamente quindi sono nati all'interno di un tipo di comunicazione diverso rispetto a me a te o a Stefano e quindi hanno un occhio e un pensiero diverso rispetto al modo di farlo quel video e quindi sì mi viene da dire non si può prendere secondo me e entregare un emalloru perché ha il suo percorso ha il suo nome ha il suo piacere di essere anche da solo però in realtà quello che stiamo provando a fare anche noi è di trovare dei creator che stanno nascendo che sono giovani che si stanno provando a affermare ma che hanno un occhio per trovare il nuovo trend per riuscire a capire come fare una certa cosa che purtroppo possiamo applicarci quanto vogliamo ma non abbiamo tanto quanto loro non hanno il mio occhio nel vedere una creatività possibile per un commercialone però è proprio un modo diverso di approcciarsi alla creatività e visto che tanto lo sappiamo tutti che per lo stesso per diciamo clienti diversi sarebbe bello ma è impossibile ma sarebbe bello ogni volta avere creativi diversi perché a seconda di alcuni brand la creatività di ogni creativo video si applica e si approccia in un modo diverso nel mondo del format reel è tutto così quindi trovare youtuber o reeler che sono veramente nati all'interno di una cultura digitale video come quella fa benissimo alla CDP perché poi può andare dal brand e dirgli guarda che in realtà io all'interno ho proprio la unit che ti parlavo dedicata che non è soltanto noi veci che ci mettiamo a provare a parlare quella lingua lì c'è una commistione fra know-how e expertise nel fare video che però si connette con un gusto proprio un gusto video giovane zeta reeler o come lo vorremmo chiamare che è completamente diverso per rispondere alla tua seconda domanda secondo me tra l'altro si vede sempre di più la differenza che dicevi di te fra influencer e creator proprio perché il creator con tutto quella che è la possiamo chiamare la grande democratizzazione del videomaking perché ragazzi dieci anni fa e ma loro non lo poteva fare un video con un iphone 13 e montarlo con l'iphone 13 oggi sì e quindi anche se è scontato da dire è cambiato anche tutto il modo con cui li facciamo questi contenuti e visto però che oggi sia l'hardware cioè il modo con cui li facciamo sia le expertise cioè i 10 miliardi di tutorial il modo in cui si lavorano i video le maschere su after effect o proprio il tool che ti permette di sopperire a queste cose ora a noi sembra tutto normalissimo ma nel senso non era normalissimo che su meet andassimo lì dicessimo un bottone e lo sfondo mi scomparisse e mi arrivasse le bahamas non è che tre anni fa se lo dicevamo diciamo sì vabbè dai green screen no è diventato talmente tutto più semplice talmente tutto corre più velocemente che i creator che sanno utilizzare questi formati e questi hardware si stanno sempre di più uniformando in una figura che non è soltanto creativa ma è anche proprio braccio io al creator brand gli do come dicevi te gli do proprio fallo cioè con la tua mano col tuo gusto ma loro non è che ti cerco di scatolare poi però c'è tutta un'altra parte di influencer classici di testimonial che invece hanno bisogno della creatività e della mano della cdp e dell'agenzia perché in realtà loro sì che pasturano di più se li inseriamo all'interno di un quadro creativo che però sappiamo essendo agenzia essendo cdp rispetta le linee guida della mission del brand cosa che loro da solo non possono fare e quindi a me questa commissione piace molto l'esempio di prima che si diceva di fabio volo è proprio questa cioè fabio volo che non se lo fa da solo il video in cui va in montagna a scoprire la fonte della levissima viene inserito all'interno di un quadro che è we are social da una parte indiana dall'altra tanto come invece a differenza maccio capatonda per tavernello lo fa da solo poi viene inserito ovviamente come sempre all'interno di un brief creativo in cui gli si dice guarda non così ma cosa si bella questa si meno bella quest'altra di idee però poi fa lui perché è suo il braccio è sua la mano con cui riesce veramente a esprimere la sua voce questa è una grande differenza che sempre di più si vede a livello di bread dal punto di vista mio di cdp mi piace pensare che in realtà tutte quelle grandi ho visto ieri o intimissimi o un altro che ci ha messo dentro chi la vale e secondo me l'ha messa dentro l'ha messa dentro male nel senso che l'ha messo alla fine del commercial come immagine poi dopo tutto lo spot c'è anche lui ok e questo è un po' un modo vecchio ma molto vecchio di utilizzare il creator l'influencer che sia perché in realtà è soltanto come prendere una figurina e buttarla dentro oggi abbiamo talmente tanto la possibilità anche con i trend di inserire questi personaggi che hanno una loro narrazione all'interno di dei filoni in cui si innestano perfettamente e allora sì che li fanno esplodere che utilizzarli soltanto per prenderli metterli davanti dargli un prodotto in mano e fargli una foto è veramente secondo me oggi svilente no sono di una porta aperta anche perché poi qui torniamo sul concetto un po' della sinergia e dell'affinità che sono sicuramente sicuramente chiave Stefano se non hai domande ne faccio un'altra io adesso che ho in servo magari faccio una domanda finale io un pochettino Nicco come la tecnologia l'hai toccata a te è un punto di evoluzione enorme a me viene in mente non per fare pubblicità ma ci sono veramente delle app mi viene in mente light in cui se anche non sai fare video tendenzialmente oppure hai citato a te voci io l'utilizzavo era insomma dava degli effetti molto interessanti tra l'altro molto orientati al concetto un po' tiktok real giusto per fare degli esempi app che si non costano poco però ti permettono comunque non sapendo fare non sapendo usare gli strumenti adobe o compagnia bella di fare comunque contenuti di grande qualità però andando più in alto mi viene in mente per esempio tiktok uno dei formati adb che lancerà l'anno prossimo daremo in pasto a tiktok un video completo e l'intelligenza artificiale a seconda delle performance degli utenti deciderà come tagliarlo e rimontarlo per farlo più idoneo farà tutta l'intelligenza artificiale per renderlo più idoneo al momento e alla persona che lo sta vedendo quindi in quest'ottica qui mi viene da dire cambia ancora di più il tuo romanticismo ma com'è l'impatto della tecnologia cosa vedi caldo per il 2022 cioè su cui orientarci tutta questa parte dell'AI però mi viene in mente ancora di più proprio la facilità di produzione allora qui faccio il boomer nel senso che le AI che montano da sole ci stanno provando da un bel po' di anni e secondo me sono super fighe per un brand che ha bisogno di fa uno shooting di moda uno shooting di prodotto c'ha un botto di immagini non è tanto il senso del montaggio ma il senso di far vedere un'immagine visivamente accattivante sono top ti fanno risparmiare Nicco che non c'ha quindi più l'omino che monta ma un'intelligenza artificiale che ti fa tutto lui sono d'accordissimo però dobbiamo stare attenti a parlare di editing in un certo modo nel senso che l'editing non è sapere usare un software non è saper pigiare i bottoni ma è l'avere il gusto di saper narrare quella storia lì e questo qui davvero faccio il boomer cioè ci sta che poi fra sei mesi se uno riguarda il video fa è coglione però in realtà davvero secondo me non ci siamo ancora non ci siamo ancora perché non c'è l'intelligenza artificiale che riesce a avere il gusto di Mirko di Fulvia o di Luigi nel creare quella storia nel scegliere quel taglio lì o quel modo di raccontarlo certo che se parliamo invece ripeto di avere tanto materiale avere tanto bisogno di serialità o comunque di quantità proprio cioè io voglio buttare voglio far uscire roba cioè tempi brevi prodotti che si legano in un modo bellino colori rilaccattivanti e voglio buttare tutta la gente che poi semmai non ha capito bene di cosa sto parlando ma comunque è super attratta da questo sfarfallino di colori mi clicca mi rimbalza da qualche parte e poi l'ho buttato nel mio marketplace può avere un gran senso primo perché ha un senso di risparmio che è inutile anche io mi metto a fare le barricate cioè ha un super senso di risparmio e dall'altra sono d'accordo sul fatto che il montaggio di alcuni tipi di format come quelli di cui sto parlando è solo un fatto visivo e quindi sono convinto che effettivamente una volta che l'intelligenza artificiale è allenata e vedi proprio le reazioni le reazioni le reazioni quindi diventa sempre più brava e dopo un po' lo sa fare quel montaggino lì che è il montaggino che io farei fa invece a un junior dopo che gli ho spiegato bene cos'è che gli piace un po' al brand dico stiamo attenti a lanciare tutto verso l'hardware perché ancora io sì qua faccio il vecchio ma non riesco a capire come l'hardware possa il software in questo caso possa sopperire alla mano e al gusto dell'editor che rimangono romanticamente secondo me il vero discrimine e la vera leva creativa che poi separa il livello delle produzioni da ok questo è un tante immagini belle messe insieme con una musica sotto a guarda che bella idea Niccolò faccio una domanda a te ma anche a Matteo allora ci hai raccontato di un livello qualitativo di una sticella che si alza sempre di più perché i creator svincolati anche da brief da necessità di brand eccetera eccetera e anche della capacità di sperimentare anche le soluzioni software per cui tutto quello che oggi gli è messo in mano la creatività oggi alza la sticella dall'altro lato la necessità di inseguire come dire tendenze ci hai raccontato tendenze costantemente mutevoli quasi che in 15 giorni il rilascio di una produzione video diventa quasi come dire troppo lunga per cui un'ulteriore complessità al contempo un uso e consumo quasi bulimico di contenuti da parte dell'utenza per cui una produzione che va verso un'estemporaneità di utilizzo per cui tutta una serie di elementi che poi portano chiaramente a dover da un lato ottimizzare budget non ci sono più le megaproduzioni di una volta chiaramente bisogna andare a produzione più snelle e anche come dire con livelli diversi proprio anche di impianto di produzione e comunque con una complessità di dover fare una continua content creation e mi viene da dire i risultati a diarli ai risultati di branding a diarli ai risultati di visibilità si riesce ancora a far conversione in termini di atterraggio poi e conversione seria vera come dire non solo di visibilità di brand o è un grande tessuto oggi una grande arena dove come dire competere nel farsi vedere e poi la conversione avviene in altri modi in altri termini se non mi è sulla conversione ti risponde so che Matt ti risponderà in un altro modo diverso da me però io ti rispondo in questo modo qua c'è un dato che sto facendo vedere nell'ultima settimana a due speech che ho fatto che mi ha fatto impressione che fa vedere come oggi l'86% dei brand e delle aziende utilizzi il video nella propria comunicazione rispetto al 52% di tre anni fa è ovvio che tutti stiamo andando che stiamo tutti puntando verso il 99% cioè arriveremo al fatto che nessuno più non utilizza i video già oggi sembra assurdo non utilizzarli questo però cosa vuol dire vuol dire che se veramente riempiamo l'etere di tutte queste comunicazioni di tutti questi app di tutti questi video con l'asticella che si alza ci saranno molti più contenuti e molto più tempo di visione rispetto agli utenti che possono esistere per guardarli quei contenuti e quindi pensato questo mi viene da dire rimane secondo me il concetto che in questa grande arena devi misurarti ma non puoi misurarti senza avere una grande idea cioè se è una cosa buffa da dire ma se soltanto tre no tre no però cinque anni fa si diceva devi per forza fare un video ma non è così importante il video intanto fai un video oggi è assurdo pensare in questo modo perché come dici te veramente si rimbalza dopo aver fatto il video in un mondo in cui tanti altri hanno fatto video meglio di te si è alzata talmente tanto l'asticella della competitività creativa che effettivamente oggi il lagone come si diceva è molto più più difficile è molto più difficile creare questa conversione è molto più difficile soprattutto combattere per l'attenzione dell'utente che hai voglia a dirgli questa è una nuova idea ma lui ne ha già viste sette da stamattina di nuove idee da quando si è svegliato e probabilmente anche se la tua è la migliore dopo che hai visto sette video l'ottavo può essere Kubrick ma è l'ottavo video sei anche un po' stanco quindi la cosa che mi viene da dire è purtroppo sembra una cosa pessimistica ma dal mio punto di vista invece è super ottimistica vinceranno sempre più bravi continuerà a esserci una base di aziende che ci prova non risultando grandemente non avendo un roi della madonna e ci saranno invece quelli che riescono a usare la leva creativa in commistione con la parte digital e strategica dell'agenzia e quindi qui il sogno romantico è proprio che il creativo video fa il creativo trova la grande idea e poi questa idea viene innestata in una strategia che oggi come oggi deve esserci per cui quell'idea raggiunge il suo roi più alto perché è inserita in questa strategia marketing che funziona e quindi la commissione di queste due cose fa vincere quella che dicevi te essere la grande bega in cui tutti ci misuriamo che poi andiamo dal brand e gli promettiamo ma certo fai questi numeri e poi hai voglia con queste due cose ci si riesce ancora se no se non si ha la grande idea creativa e la strategia dietro si butta fuori i contenuti che ok si l'hai fatto vai dal CEO gli hai detto guarda si ho buttato fuori un monte di roba guarda bello ma speriamo che non vada a guardare il roi ma io invece sono abbastanza d'accordo Niccolò diciamo Stefano sicuramente mi viene in mente le grossi grossi attività creative i video sicuramente ma mi viene in mente anche in parte l'attività di influencer marketing sicuramente lavorano molto sul tema della awareness però è una awareness molto più qualitativa da una parte perché c'è le qualità di influencer nel video perché c'è un'originalità se hai fatto un buon video è un diciamo una sovrastruttura creativa che comunque fa la differenza non è semplicemente un banner sarebbe alquanto un paragono stupido quindi sicuramente si va a lavorare sulla reputation del brand e quindi questo fa bene anche alle conversioni perché se io vedo un banner una semplice ADV dopo aver visto magari dei video creativi fatti dal brand stesso o delle campagne con dei creator o comunque delle attività di un certo valore è ovvio che io molto più facilmente il mio percepito del brand è diverso e quindi magari lavorerò perfezionerò anche tutte quelle che sono i tassi dell'ADV ci sono studi in quest'ottica in cui americani in cui io faccio esempio appunto l'influencer marketing dove per esempio le campagne di influencer che è molto più di awareness poi fanno molto bene anche al performance sul patto della confezione e ci sono esempi di conversioni interessanti c'è un bellissimo case di quell'azienda danese che ha fatto un video per YouTube per il pre-roll di YouTube in cui c'è loro facevano bacon faceva il video era una fetta di bacon che si cuoceva e te dovevi cioè schippavi se non lo volevi cuocere però c'era la gente aspettava di vedere quando arrivava al punto in cui loro di solito la mangiano c'è dei numeri impressionanti su queste conversioni quello che dice Nico però è chiave ovvio che l'idea la buona idea vince cioè è sempre una buona base in tutto non solo nei video detto questo mi viene da dire che oggi è tanto però tanto quanto importante il come il quando come la contestualizziamo perché se content is the king sappiamo bene che sia il context che il distribution sono altro che la regina io oggi posso fare un bellissimo contenuto però effettivamente se non è inerente al mio contesto faccio fatica proviamo a pensare una grande idea magari legata al tema dell'abbraccio fatta uscire durante la pandemia una grande idea ma magari non funzionava anche in quel momento per esempio stessa cosa la distribuzione se io non lavoro interno di distribuzione quindi capendo i formati capendo quali sono comunque i momenti trend cioè quando è il momento di farli uscire e soprattutto oggi come oggi con il callo dell'organico è determinante l'adv quindi io posso avere una grande idea ma se non ho un buon budget advertising sono un uomo morto qui cito il mio amico Giorgio Soffiato che dice che quando l'uomo con il grande contenuto incontra l'uomo con il grande budget advertising l'uomo con il grande contenuto è un uomo morto è vero purtroppo nel senso che l'idea è interessante perché io posso metterci milioni di euro di adv se il contenuto è quello che è è quello che è però è determinante la parte di adv altrimenti non andiamo a nessuna parte così oggi come oggi è fondamentale lavorare in ecosistema per esempio anche con la stampa mi viene in mente una realtà che oggi è eccezionale e sta vivendo momenti d'oro come Pubblicis Italia le campagne pubblici sono veramente belle non lo devo dire per gentilezza hanno però un ecosistema dietro di spinta anche di branding e di ufficio stampa che fa la differenza perché oggi come oggi anche la notiziabilità è un tema fondamentale chiarissima prima un tempo non si guardava troppo oggi fare una campagna che al di là sicuramente è fondamentale è una strategia come dice Nicolò sicuramente partire da un buon è come un gran premio avere una grande macchina non basta ti ci vuole il grande pilota lo stratega al muretto e il grande team di meccanici diciamo che avere la grande macchina è la base di partenza rilevante però se non la dà in mano e non viene gestita dalle persone giuste la grande macchina probabilmente diciamo che non dico non vincerà ma magari fa meno di quello che potrebbe fare per cui idea creativa sempre che non ci sia un incidente sempre che non ci sia un incidente al primo giro esatto ok direi grazie ragazzi abbiamo esplorato un po' questo tema e direi a questo punto visto che è stata l'ultima puntata dell'anno buone feste e ci vediamo l'anno prossimo ciao ragazzi buone feste a tutti ciao grazie a tutti ciao